L'Arezzo calcio femminile vince 2-0 sul campo della Zalè e Solbiatesi al termine di una partita tutt'altro che facile. All'ottavo la prima grande occasione della partita è proprio per l'Arezzo con Gnisci che crossa e serve Ceccarelli parata di Mazzon. Al diciassettesimo Razzolini tenta di far passare il pallone tra le gambe del portiere avversario ma lei respinge il tentativo in parata. Neanche un minuto dopo al diciottesimo l'azione che fa passare in vantaggio l'Arezzo calcio femminile con un gol proprio di Gnisci. Al venticinquesimo alla risposta degli avversari e Barbini entra in area di rigore e prova a violare la porta Amaranto ma il portiere si fa trovare vigile. Si va a riposo sull'1-0 per le Amaranto. Al tredicesimo altro tentativo di Pellegrinelli nell'area di rigore dell'Arezzo ma anche questo tentativo fallisce. È il trentunesimo quando l'Arezzo decide per il secondo cambio fuori Gnisci e fa il suo ingresso Ivanova al suo esordio con la maglia Amaranto. Sarà lei a firmare il secondo gol per le aretine al quarantunesimo che poi regala anche la vittoria alla formazione aritina. Una vittoria sofferta e difesa fino alla fine. Infatti è proprio al quarantaseiesimo che il portiere dell'Arezzo salva di nuovo con la mano destra la porta da un tiro pericolosissimo di Barbini. Il match finisce dunque con due reti di vantaggio per l'Arezzo calcio femminile e la sedicesima giornata finisce con tre punti preziosi che raccontano la grinta dell'Amaranto.